L'Emilia Romagna guarda al futuro con una forza e un'abnegazione incrollabili. Sono ancora giorni difficili, ogni comune o frazione colpiti hanno difficoltà specifiche. Detriti da rimuovere, case, cantine, aziende da ripulire, campi da prosciugare, attività produttive da rimettere in moto come si può, strade distrutte dalle frane da ricostruire. La situazione grave è nelle campagne, perché non c'è più una strada che sia in collegamento, sono franate tutte quante. Ci sono tantissime frane e dall'altra parte la strada che permetteva di raggiungere la Valle del Lamone è di una crescita inaudita, tanto che ci vorranno anni per metterla a posto. Quasi tutti gli sfollati sono tornati nelle loro case. Da Conselici a Faenza, Ravenna, Lugo, Forlì, acqua ed eltricità sono state ripristinate quasi ovunque, ma i segni dell'alluvione resteranno a lungo. Neppure il cimitero di Forlì è stato risparmiato con le tombe danneggiate e coperte dal fango. È difficile individuare responsabilità di fronte a un evento così eccezionale, ha detto il procuratore di Bologna Amato, che ha deciso di non aprire nessun fascicolo su questa tragedia, mentre sui 98 tratti di costa analizzati dall'ARPA restano solo 19 punti attualmente non balneabili, in attesa che il ricircolo delle acque ripulisca anche quelli. Una situazione destinata a migliorare in poco tempo, secondo gli esperti, con il ministro dell'Interno Piantedosi, che dopo la visita in Emilia Romagna annuncia ulteriore impegno nei piani anti-sciacallaggio e massima severità per evitare infiltrazioni criminali nella ricostruzione.